Sulla nostra console tutti i giochi che escono vengono studiati... Scusami. E i nostri giochi, grazie al Game Pass... Oh, dove vai? Sto ancora parlando. Ma il Nintendaro dov'è? Deve parlare lui adesso. Cercavate me, scusate, mi stavo lamentando su dei gruppi e mi sono distratto. Ma non tu, oh, sempre al centro dell'attenzione. No, non si può andare avanti così, con questo assenteismo continuo. Noto che non ti hanno mai educato a bussare, villano. Guarda che tocca a te, vieni o no? Non posso alzarmi, ho le gambe atrofizzate. Sono qui da 12 ore. Ma tanto comunque non avevo alcuna intenzione di farlo. Ora chiudi la porta e lasciami solo. Ci vediamo fra qualche mese.